di un primo tempo nel quale il Palermo ha ottenuto quattro corner contro i due degli Amaranto va a calciare adesso Mesto dopo l'uscita di Colza per infortunio sui calci d'angolo e sulle punizioni adesso si alternano gli altri soprattutto Mesto e Tedesco la rincorsa di Mesto, pallone con effetto ad uscire in mezzo c'è una mischia esce il portiere Rete, il pareggio in mischia di De Rosa De Rosa al 49esimo realizza il punto dell'1-1 battuto il portiere Andukar, prima distrazione difensiva del Palermo pagata a carissimo prezzo e poi il calcio è piazzato battuto bene dalla regina lo sappiamo che sono molto bravi in queste circostanze leggerezza in fase difensiva della regina e bravo poi De Rosa a fare gol nessuno ha seguito De Rosa che si è trovato solo davanti al portiere Andukar che stava uscendo ma non ha avuto il tempo per andare sul pallone e dunque a un minuto dalla fine dei 5 di recupero la partita ritrova il suo equilibrio nel punteggio il gol di Barone fa seguito quello di Gaetano De Rosa si giocherà per pochi secondi